L'occupazione dei posti letto nei reparti di area medica non critica da parte di pazienti covid in Calabria è pari al 30%, molto oltre il valore della soglia nazionale ed ancora non accenna a diminuire. Lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali Agenas, aggiornati alla data del 15 marzo. Pare che il livello raggiunto nelle strutture ospedaliere della regione è al momento pari a più del doppio di quello medio italiano che rimane stabile al 13%. Superiore alla media ma al di sotto della soglia invece il dato riferito all'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive dove la Calabria è posizionata all'8% rispetto al 5% di quello rilevato a livello nazionale. Intanto sono state individuate alcune varianti del genoma umana che hanno un ruolo nella progressione clinica della sindrome covid-19 causata dall'infezione nelle sue forme più gravi e le risultato di un maxi studio frutto del lavoro di centinaia di ricercatori provenienti da 547 istituzioni di tutto il mondo è pubblicato sulla rivista Nature. La forma critica di covid-19 è causata da un danno polmonare infiammatorio immunomediato. I ricercatori non sanno ancora però perché in alcuni pazienti il decorso della malattia sia estremamente grave mentre in altri del tutto asintomatico.